Nell'anno santo della misericordia, Morris Letizia, la gioia dell'amore, raccoglie i risultati dei due sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015. In nove capitoli, Papa Francesco sottolinea come la parola di Dio sia una compagna di viaggio per le famiglie, anche quelle in crisi. Affronta il tema del matrimonio sacramentale, inteso come unione tra un uomo e una donna. Ogni persona va rispettata nella sua dignità. Al contempo, evidenzia, non esiste fondamento per assimilare o stabilire analogie tra le unioni omosessuali e il matrimonio. A tale riflessione, il Pontefice affianca la necessità di guardare, accompagnare e integrare con misericordia le fragilità di molti fedeli. Ai pastori compete, sottolinea, sia la promozione del matrimonio cristiano, sia il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà, come ad esempio il matrimonio civile o la convivenza. Nessuno può essere condannato per sempre, aggiunge. L'invito è a integrare tutti, anche i divorziati risposati, che possono partecipare alla vita della comunità, ad esempio attraverso impegni sociali o riunioni di preghiera. Occorre discernere e spiega quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo ed istituzionale, possono essere superate, affinché i divorziati risposati civilmente non si sentano scomunicati, ma avvertano la Chiesa come una madre. Papa Bergoglio esorta inoltre a non rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, rafforzando l'educazione dei figli. Oggi prosegue e è necessario uno sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture. La via è quella della logica della compassione, quindi non giudicare, non condannare, non escludere nessuno. Grazie a tutti.